A voi al TG Espresso. Rattrobatte lo coso senza via del subito scomparito. Parcheggios 5 stelle domandano di farmi la deliberazione. Consorzio di modifica 42.000 euro per la Saldegna del Nord. Pintura Cici Pace premiata a Vieste. Venti deleghi hanno guadagnato Corto Maltese in Makassar. Sigla. Il pane di tutti i giorni. Cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Buongiorno e ben trovati a Malagheti G Espresso, l'appuntamento quotidiano dell'informazione del Alguero Channel. Salute a tutti gli amici e amici della Catalunya. Dopo dei tre giorni si sono tancate le ricerche del sub Gianfranco Sabino. 44 anni si sarebbe. Da scomparito di Sata all'Argentiera. Lo coso è stato trovato mesi o manco a dei 7 metri di profondità della Gualdia Costella, dell'Alghè e del Puntura Stambè. Insieme a Maragheti di Finanza, Pompiersi e Volontari trasportati al Puntura dell'Alghè, lo coso è stato trasferito all'ospitalo di Rizzedo. Salute a tutti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, il Consiglio Comunale Roberto Ferrara e Graziano Porcu, per la gestione del parcheggio multipradi e del Carri Brigata Sassari, la deliberazione non può essere in regola. In Adamana, l'annunamento e l'autotutela. La proposta dell'Assessor Pierluigi Caria. La Giunta regionale ha deliberato i finanziamenti di 3 milioni di euro a favore dei consorzi di bonifica dell'isura per i pagamenti del personale a 20. quindi hai detto, le 6 milioni di euro in previsione del bilancio triennale 2007-2009 sono state dividite. La Saldegna Meridional ha dipende di 5 100 mili e 5 95,60 centemus di euro. da parte di Oristà un milione 446.268,720 euro, al nord di Saldegna, che riguarda Tammellaghi, 42.135,680 euro. Il pintor Cici Pes ha ricevuto il prestigioso premio di giuria Artista Svieste Art 2017 e giuria critica la motivazione per l'ampegno di una vita a spesa per l'art, per il valore sociale, il documento della realtà è vista a malzonsi e profondamenti umani attenti a percepire l'ansieme dei valori sociali e politici della comunità. Vèo alla regia e lego t'una man direta! Vèo alla regia e lego t'una man direttamente! Vèo alla regia e lego t'una man direttamente! alla categoria crociera regata! Alla categoria gran crociera ha giocato Makassar! la curiosità di voi, parlando del bilinguismo, l'alganese e l'Italia. Al contrario del che si può pensare, il bilinguismo per il miglior non è difficile né problematico e destinato al fallimento. No! La rassilca ha dimostrato che è positivo per la matura sua e il futuro dei migliori. De fatto educare il bilinguismo dona la possibilità di conoscere più bene le due lingue. dei migliori che parlano e pensano in lingua diversa hanno una maggior consensi di culturazioni differenti, delle altre e delle opinioni delle altre. Per qualsiasi volta in orazione fosse una sua domanda, possiamo contattare la pagina di Facebook Alguero Channel. Viamo a vedere domani! Non siれない! Lievi tutti... ... ... Grazie a tutti.